Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo video della casa editrice El Tano, il vostro portale sulla cultura turca. Oggi non parleremo tanto di serie, ma di animali, e nello specifico di una razza canina veramente incredibile, assolutamente tipica della Turchia, tanto da diventarne uno dei simboli addirittura, ovvero il Kangal, un animale davvero assurdo per bellezza, forza e fascino, e con una storia che si intreccia appieno con quella dell'intera Anatolia. Prima di iniziare il nostro viaggio, però, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale YouTube della casa editrice El Tano e dai suoi social, trovate tutti i vari link in descrizione, e vi ricordo anche che se volete seguire Medioriente e Intorni, ovvero il mio progetto personale, trovate anche lì i link, ma ora bando alle ciance e partiamo subito con questa fantastica storia. Partiamo con le basi e andiamo a scoprire l'origine di questa razza, secondo alcuni fra le più antiche dell'intera storia. E dico secondo alcuni perché in realtà, come stiamo a prevedere, non c'è una certezza riguardo alle origini di questo animale, ma ci sono addirittura tre teorie diverse, che però, come vedremo, in realtà non sono per forza in contrasto, o meglio, secondo il mio umile punto di vista, potrebbero essere vere entrami, ma andiamo appunto piano piano. Andiamo a vedere la prima ipotesi, quella proprio che lega il Kangal più di tutte a questa terra, perché appunto, secondo una teoria, questo Kangal sarebbe niente o po' di meno che il cane originario proprio di questo suolo, ovvero originario dell'Anatolia, in particolare dell'Anatolia centro-sud-orientale, e nello specifico sarebbe addirittura il cane utilizzato dai primi popoli mesopotamici per andare in guerra, quindi sto parlando ad esempio degli Assiri, o di altre figure di questo genere, e pare che ci sia comunque una forte corrispondenza alle immagini che queste stesse popolazioni hanno creato riguardo ai cani, perché comunque ricordiamoci che questo, essendo un cane pastore, è sempre stato utilizzato dagli abitanti locali, e quindi, secondo questa teoria, questa razza risalirebbe addirittura al 4000 avanti Cristo. Parliamo di un tempo veramente che noi non possiamo nemmeno concepire, un tempo che è lontano anni luce dal momento in cui siamo adesso. Un'altra ipotesi vede invece i Kangal come frutto dell'unione fra i mastini romani e dei cani locali, un tentativo in un certo qual modo di creare una super razza, diciamo così, che poteva essere utile sia per quanto riguarda l'allevamento, quindi per i pastori, eccetera, sia in campo di battaglia, anche perché i romani, questo si sa, facevano comunque utilizzo di animali, nello specifico di cani, proprio per andare a infiacchire, andare a indebolire di fatto il nemico. Quindi c'è questa possibilità, e la terza è quella che va un po' a concludere il tutto, perché la terza si collega a una tribù turca, nello specifico alla tribù dei Kangalar, ok? Questi Kangalar sarebbero una tribù turca originaria dei monti Altai, che sarebbe giunta in Anatolia a seguito delle invasioni dei Seljuki di prima e dei Gengis Khan poi. Trovandosi particolarmente bene in questo territorio e portando con sé i suoi animali più fedeli, ovvero proprio questi cani, che giungendo qui si sarebbero fusi di fatto a diverse popolazioni locali canine, che già comunque esistevano, dando di fatto vita al Kangal. Come vi dicevo, riguardo alle esatte origini non c'è certezza, ma dal mio umile punto di vista è molto probabile quest'ultima, perché di fatto non andrebbe a escludere quelle precedenti, ed è molto realistico che un cane del genere non sia frutto meramente di un qualche tipo di animale trovato purissimo, cioè un genere in questi luoghi, ma anzi un cane che si è andato a rinforzare e irrobustire nel corso dei secoli, anche perché come stiamo per vedere il Kangal non è un cane come di tutti gli altri, è un cane che è veramente incredibilmente forte, incredibilmente agile, tante caratteristiche che per carità possono anche nascere in natura, ma che sicuramente se sono supportate da un adeguato mix lo rendono ancora più interessante. Ma passiamo adesso alle caratteristiche generali. Ma a livello generale, quindi, sto Kangal, che cane è? Per comprenderlo appieno dobbiamo fare un viaggio all'interno della sua indole e del suo utilizzo nel corso dei secoli, elementi in grado di farci comprendere davvero le meraviglie, le potenzialità del Kangal. Partiamo da un presupposto imprescindibile. Il Kangal non è una razza nata per ragioni estetiche, non è ad esempio, che ne so, un barboncino, o un bassetown, o un bulldog, o altri animali di questo genere. Il Kangal è una razza di fatto nata dalla natura per motivi pratici. E questo fa tutta la differenza del mondo, proprio perché queste razze servivano più che altro per motivi pratici, ovvero dei cani da pastore, e quindi non era tanto l'essere umano che li selezionava, quanto più l'ambiente. Nello specifico, l'ambiente anatolico è veramente un ambiente estremo, molti magari non lo pensano neanche, ma io sono andato un attimo a vedere, e nelle regioni in cui è maggiormente presente questo animale, per carità, sto parlando adesso di picchi, quindi non spaventatevi, non è che se andate a Sivas trovate queste temperature, però ecco, i picchi registrati sono di circa 40 gradi d'estate, e di meno 30 d'inverno. Quindi parliamo già solo per questo di un cane che deve essere assolutamente resistente, e che quindi motiverà tutti i suoi cambiamenti fisici, di pelo, di manto, e di cose del genere, proprio in base al clima in cui si trova. Elemento ovviamente molto importante, non solo. Oltre a questo aspetto, c'è il fatto che questo è un cane da pastore, quindi ha una caratteristica molto importante, deve difendere il gregge. E contro chi lo deve difendere? Beh, in realtà in Anatolia fino a poco tempo fa vivevano veramente tanti animali diversi, molti di quali particolarmente pericolosi. Vi faccio un esempio classico come il lupo, come l'orso, ma in realtà fino ai primi del Novecento in Anatolia c'erano addirittura le tigri. Quindi immaginatevi un cane che essenzialmente deve resistere e difendere queste gregge di pecore, di capre, eccetera, da tutti questi animali. Serve effettivamente un animale particolarmente forte, resistente, coraggioso, intraprendente e che abbia anche delle capacità fisiche non indifferenti, sia come vi dicevo per resistere a questo clima, sia anche per combattere con quelli che possono essere i suoi nemici. E proprio da tali aspetti derivano tre delle caratteristiche secondo me più importanti e anche significative, molte delle quali anche misurabili di fatto, ovvero forza, velocità ed intelligenza. Partiamo rapidamente con la forza. Il morso del Kangal è giudicato come uno dei più potenti al mondo, se non addirittura il più potente in assoluto. E questo già ci dà indice di tante caratteristiche. La seconda caratteristica importante, come vi dicevo, è la velocità. Questo è un cane che, pur essendo particolarmente potente, è estremamente veloce. Non è un cane pesante, è un cane che sa correre, se vuole, e corre anche abbastanza. Vi faccio un esempio. La sua velocità massima dovrebbe girarsi sui 56 km orari. Ora, calcolate che il cane più veloce in assoluto, che è il Greyhound, raggiunge più o meno i 64 km orari. Per carità, non è il suo picco, può raggiungere anche più o meno i 70 km orari, ma già il fatto che non ci sia questa enorme differenza è dall'idea di un cane veramente veloce, un cane veramente dinamico. E il terzo aspetto, come vi dicevo, è l'intelligenza. Perché un cane da pastore, un cane che magari appunto deve stare tanto tempo nella natura aperta, senza neanche un pastore che lo controlli, senza un pastore che possa stare tutto il tempo attaccato a lui, vi dà anche l'idea di un cane che sappia gestire quello che ha davanti. Quindi parliamo di un cane assolutamente intelligente, furbo, scaltro, un cane assolutamente fedele, come vedremo anche più avanti, ma sicuramente in grado di vivere anche da solo, più o meno. Questo è un aspetto molto importante anche perché io in primis ho avuto un cane, poi vi dirò dopo qual è, che invece era un po' tontolone. Ecco, questo assolutamente no, questo è estremamente efficiente. Naturalmente tutti questi elementi si traducono in scelte molto precise e delicate che deve seguire colui che ambisce a arricchire la propria vita con un Kangal, ma su questo aspetto torneremo più avanti, anche perché in questo momento voglio concentrarmi più che altro sulle caratteristiche. Torniamo al presupposto molto importante che vi accennavo prima. Il Kangal, a differenza di tanti cani europei, come ripeto sempre il Bassetown, il Bulldog, eccetera, è un cane che è nato per il lavoro, ok? Quindi non è che gli allevatori stessero molto a selezionare il fatto che avesse il pelo di un certo colore, di un altro, la faccia così, la faccia così. Erano molto più attenti al fatto che questo fosse un cane molto efficiente, quindi la caratteristica vera, principale, almeno fino a qualche decennio fa, come stiamo per vedere, era il fatto che questi Kangal dovessero essere degli eccellenti cani da pastore e resistenti a quei climi assurdi che vi ho detto. Tutto il resto era un po' secondario, ma va detto anche che nel corso del tempo, anche per preservare questo animale, ad esempio, dei combattimenti fra cani, si è andato a fare tutta una serie di selezioni riguardo a cos'è e cosa non è un Kangal, anche perché il nome, non dico scientifico, ma il nome tecnico di questo cane, ancora più che Kangal, è cane da pastore dell'Anatolia. E inizialmente questa definizione in realtà si applicava anche ad altre razze, che oggi non vedremo, però devo per forza accennarvi, ovvero al Akbash, ovvero alla faccia bianca, che sicuramente starete vedendo, è al Aksarai Malaklese, che in realtà è un po' legato al Kangal, ma non è argomento di oggi, nel caso foste interessati, fatemelo sapere che faremo un video scientifico e a parte. Ma vi dicevo, inizialmente il Kangal, l'Akbash, l'Aksarai Malaklese e il Kangal erano un'unica razza, poi li hanno dovuti dividere proprio per dare un'estetica ben definita al Kangal, che all'epoca, fra l'altro, non si chiamava neanche Kangal. Il nome storico di questo animale è infatti Karabash, che va in contraposizione all'Akbash, ok? Perché il Karabash vuol dire faccia nera, infatti potrete vedere qua adesso che il Kangal ha una maschera effettivamente nera in fronte, in faccia più che altro, mentre l'Akbash, al contrario, è tutto bianco, ed è questa la differenza principale. Poi ci sono anche altre differenze, perché l'Akbash è tendenzialmente un cane un po' più tranquillo, un po' più piccola, eccetera, però la differenza maggiore per un sacco di decenni è stata proprio questa. Tale selezionamento comunque ha fatto sì che ci fossero effettivamente degli standard molto ben definiti per quanto riguarda questa razza. Ovviamente io non vi andrò a dire che, ne so, il naso deve essere così così cosà, la coda deve essere così cosà. Mi limiterò un po' a quelle che sono le misure, che secondo me sono anche molto più importanti se qualcuno decide di allevarli, anche perché, ripeto, non sono delle misure proprio esigue, perché stiamo parlando di più o meno dai 72 ai 78 cm al garese per il maschio e dai 65 ai 73 cm al garese per quanto riguarda la femmina, mentre il peso dei maschi si aggira dai 48 ai 60 kg, mentre quello delle femmine dai 40 ai 50 kg. elementi che lo rendono comunque un cane non proprio piccolissimo, per carità non è il cane più grande del mondo, io avevo un Mastiff, però, ecco, sicuramente non è nemmeno il cane più comodo da tenere in appartamento, ma adesso ci arriviamo perché quest'ultima parte che vi sto per raccontare è dedicata proprio a chi mai decidesse di acquistarlo e quindi che ha bisogno magari di qualche informazione pratica di dove può stare, cosa può fare e anche quale può essere il livello di preparazione e penso che sia una delle parti che molti di voi stanno proprio aspettando, quindi non perdiamo altro tempo e passiamo ai consigli, di fatto. La cosa più importante da dire per chiunque si approcciasse a questa razza è questa, non pensate nemmeno di comprarlo se vivete in un appartamento in una grande città, è impossibile, cioè fareste proprio il male di questo animale e fareste anche il male vostro perché vedrete un animale sempre più in difficoltà, un animale che non riesce, diciamo, a stare tranquillo, fermo, è un animale che soprattutto ha bisogno di sfogo, quindi può anche non essere una buona notizia per la vostra casa, ma in generale è sconsigliatissima come abitazione per un Kangal, un appartamento, diciamo, classico, magari in centro a Milano, perché il Kangal è un animale appunto da lavoro, un animale che all'interno ha tanta energia, tanta energia che deve sfogare e tanta natura anche che deve in un certo qual modo assorbire. Anche qui, se non avete neanche un parco intorno, siete dei pazzi, non prendetelo assolutamente, proprio perché il Kangal ha bisogno di sfogarsi, ha bisogno della natura, come vi dicevo, ha bisogno anche di spazi, ok? Non potete mettere un Kangal in una cucchetta da chihuahua e aggiungo anche, non è neanche un cane da difesa e basta, perché io ad esempio, come vi dicevo, ho avuto un Mastiff, un Mastiff femmina per circa 12 anni e per carità, sicuramente non è l'abitazione ideale un appartamento a Milano, però va detto che un cane da difesa di quel genere è comunque un cane che ha delle abitudini abbastanza sedentarie, non è un cane particolarmente attivo, non è un cane che vorrebbe correre tutto il giorno a destra a manca, il Kangal sì, il Kangal ha proprio bisogno di quello, quindi non pensateci assolutamente, oltre a questo, come vi dicevo, ha anche una taglia abbastanza considerevole, quindi comunque ha bisogno appunto, anche all'interno della casa, dei suoi spazi, non è un Mignon, non è neanche il cane più grande del mondo, però ecco, è più parente del cane più grande del mondo rispetto al più piccolo. Su una questione mentale, io vorrei soffermarmici un attimo, perché secondo me è molto interessante ed è molto a discrezione di chi lo sta prendendo, mi spiego un po' meglio. Questo palesemente, lo dico proprio a chiare lettere, non è il cane da neofita, ok? Se non avete mai avuto un cane, non pensateci neanche, perché non è il caso. Se per caso avete già avuto un po' di mestichezza con i cani in generale, ci potete iniziare a pensare, ovviamente sempre mantenendo il primo presupposto, ovvero che abbiate lo spazio, e abbiate la natura intorno. Però comunque vi direi, state attenti, perché stiamo comunque parlando di un cane morossoide, che per carità è buonissimo, è un amante dei bambini, è un amante della famiglia, e via discorrendo, però sicuramente è un cane che, se morde, fa male, ok? E può portarvi tanti problemi. Di conseguenza, lo consiglierei soprattutto a chi ha avuto già delle esperienze con i molossoidi, ok? Ad esempio, nel mio caso, io ripeto, ho avuto questa femmina di Mastiff per 12 anni, che pesava 70 kg, che era proprio uno dei cani, che se danno un morso, appunto, fanno molto male, per essere chiari, però appunto, nel corso del tempo, sono riuscito a gestirla, l'ho avuta, l'ho amata, la follia e via discorrendo, e quindi, ho già un po' di dimestichezza, uno che magari ha avuto un Labrador, tutto si può fare, per carità, ma mettetevi in testa, che dovrete allenarvi anche voi, perché è un cane che comunque ha bisogno di un po' di disciplina, e vi faccio un esempio molto banale, se voi porterete degli ospiti a casa, li dovete presentare, non esiste che voi portiate un ospite a casa, e non gli diciate niente, perché questo è un cane che è molto protettivo, di conseguenza, potrebbe anche attaccare, proprio perché è spaventato dal male, che potrebbe arricchere la vostra famiglia, per carità, è un'ottima cosa, è bellissima, perché vuol dire proprio che ci tiene, che è molto legato al padrone, ma naturalmente, ha bisogno di giusti accorgimenti, quindi, essenzialmente, io lo consiglierei caldissimamente, a chi, innanzitutto, ha tanto spazio e disposizione, sia all'interno della casa, sia magari, lì fuori, quindi con dei giardini, con dei parchi intorno, con magari, delle cose di questo tipo, due, lo consiglierei a chi ha un po' di esperienza con i cani, in generale, e a maggior ragione con i molossoidi, questo cane, anche in virtù della sua natura pastorale, sarà la prima difesa, e potrete essere certi, che nulla di sbagliato accadrà sotto i suoi occhi, però naturalmente, ci vuole un minimo di pazienza, di educazione, di attenzione, e anche appunto di cura, anche se, l'ho già detto all'inizio, ma non l'ho ripetuto adesso, è anche un cane molto indipendente, quindi se avete per caso, un bosco intorno, un grande giardino, e tutto quanto, è il cane perfetto, perché lì si troverà proprio a suo agio, e farà veramente delle cose incredibili, fra l'altro, piccola parentesi, questo, se non erro, è anche un cane che salta, quindi, attenzione anche sotto quell'aspetto, dette tutte queste cose, vi consiglio in ogni caso, di chiedere sempre aiuto, al vostro allevatore, e personalmente, mi sento di consigliarvi, l'allevamento Turk Aslan, di Nino Azzolin, in provincia di Bergamo, da cui tra l'altro, ho tratto diverse informazioni, proprio per fare questo video, e aggiungo, se raggiungeremo almeno le 1500 views, per quanto riguarda questo video, vi prometto che mi organizzerò, insieme alla casa di Tricioltano, per andare a trovare, proprio quell'allevamento, e farvi vedere dal vivo, questi meravigliosi animali, che veramente, non vedo l'ora di vederlo dal vivo, anche io, di strapazzarmelo tutto, perché è uno dei cani, che ho sempre desiderato avere, e speriamo che prima o poi, arrivi anche il mio momento, deve essere una gioia incontenibile, e penso sinceramente, che questo sia uno dei migliori allevamenti, in Italia, ma anche in assoluto, per quanto riguarda questa razza, detto ciò, il video di oggi finisce qui, seguite il canale YouTube, della casa di Tricioltano, per non perdervi nessun contenuto, anche perché settimana prossima, vi parleremo in live, dei Turchi di Moena, e quindi un appuntamento, veramente importante, specialmente se abitate in quei luoghi, ma in generale, se abitate appunto in Italia, una qualcosa veramente, da non perdere, da non mancare, e quindi a maggior ragione, iscrivetevi, vi saluto veramente, e noi ci vediamo, alla prossima.